Allora, prosegue la mia passeggiata, torre, e a me ne come lo pare, poco parola mi stiamo a fare una passeggiata con la bicicletta, ma parlo che sono? Ah, aria fresca, aria pura, torrempiata da là, questa che è? No, sì, questa non è la quercia, sono meglio la quercia ma è la corsa, il cerro, il cerro, ma poi ecco, ecco ne sono andata la corsa, è l'erba medica, ma avete un po' di burucce, questa è secca, ecco ne sono andate pure la noce, ma ecco gli terreni che non ci mettono a Campomonte, ha cambiato il clima, queste erano 40 anni, crescino poco, prima crescino, prima ricoglioso, allora qua c'è la strada che va al trasacca, eccola qua, salgo sopra, anzi più precisamente questo è il confine, tra l'uco e il trasacca, questa parte è il trasacca e qui il luco dei marci, boh, stiamo a fare una salita, va, non sa, c'è di 400, 500 metri, va verso, prosegue verso ovest, dopo di che c'è una curva a 180 gradi, che inverte al riporta, a mezzo di luco dei marci, ecco come vedete, il giftoni abbandonato, la nocchia, c'è poi la nocchia, l'uva, l'uva sono andato, non meno, s'è secca, eh, la sveglia, quella è natura, la pianta è ripigliata, c'è qua a piantare con il nome di a capa la mercato intorno vediamo tutti gli alberi di no queste sono le noci alberi di quel c'è quindi durante il giorno quando c'è il caldo qua